Il fatto delle trivelle è una vita che mangiamo il pesce e facciamo il bagno con l'acqua sempre pulita non si è mai visto niente fuori delle trivelle sono tutte chiacchiere Voi che cosa ne pensate? Come lui Uguale? Uguale Quindi si è sempre mangiato il pesce buono Noi abbiamo fatto i marinai quanti anni? Eravamo piccoli, eravamo sempre nell'acqua abbiamo mangiato il pesce facevamo i marinai abbiamo la bandiera blu è sempre mare pulito allora cosa buttano fuori? È fatica a parlare Insomma le nostre acque possiamo dire che sono pulite? Lo possiamo dire? Anche chiedo a lei La questione è politica però il pesce che c'è qui a Fano, cioè nella riviera è il più buono che c'è nell'Adriatico e anche le trivelle non fanno niente di male se ci sono ci stiano anzi per noi parlando egoisticamente si raduna il pesce perché da lì il pesce non si va a pescare nessuno e allora il pesce si moltiplica nasce cresce si crea e per noi è una risorsa Viva il nostro mare Viva il nostro mare veramente e teniamolo da conto Viva il nostro mare Viva il nostro mare